Serve anche a te una sottoveste da mettere sotto un vestito estivo magari leggermente trasparente oppure sotto un vestito bianco che lascia intravedere magari l'intimo? Anche a me serviva, perciò ho realizzato una sottoveste, un lavoro estremamente facile, un quarto d'ora di cucito, ti serve un 80 cm di stoffa da sottoveste color carne, un reggiseno color carne che non usi più e seguire questo tutorial. Vedrai, è semplicissimo, spero che ti piaccia, ti sia utile, ovviamente ciò non toglie che tu possa farlo di un altro colore piuttosto che aggiungerci un pizzo in fondo. Se questo video ti piace iscriviti al mio canale, lasciami un commento qui sotto e clicca sulla campanella per rimanere sempre aggiornata. Ciao! Prendi una tua sottoveste e piegala a metà facendo combaciare i fianchi e disponila sul tuo tessuto. Il centro avanti deve combaciare con la piega della stoffa, il diritto si trova all'interno. Cerca di non farti disturbare dal gatto. Piega le coppette, la parte alta, perché andremo a ritagliare solamente la parte centrale del corpetto, quindi senza la parte del reggiseno. Lascia un centimetro, un centimetro e mezzo di margine e in fondo la lunghezza che desideri. Ora piega la tua sottoveste dall'altra parte, quindi la parte dietro della nostra sottoveste. Nella parte centrale dietro faremo poi una cucitura. Abbassa il corpetto alla stessa altezza del seno. Ritaglia anche qui lasciando un margine di un centimetro e mezzo e la stessa lunghezza in fondo per l'orlo. Cucciamo quindi i fianchi, diritto contro diritto, entrambi i fianchi. Ecco qui cuciti, puoi cucire con un sopragitto, una zigzag, poi ho fatto una ribattitura. Andiamo quindi a chiudere la cucitura dietro lasciando un'apertura un paio di centimetri in alto e facciamo l'orlo in fondo. Andiamo quindi a cucire un reggiseno che magari non utilizziamo più, lo cuciremo a mano con un punto leggermente elastico. Lasciamo aperto leggermente dietro dove c'è l'apertura. Cuciamo quindi tutto il profilo sotto il nostro reggiseno. Come vedi un lavoro facilissimo, molto veloce. Ed ecco pronta la nostra sottoveste. Spero che questo video ti sia piaciuto, ricordati di iscriverti al mio canale, lasciami un commento per farmi sapere cosa ne pensi. Ciao ciao!